Anche per merito degli avversari, sono una buonissima squadra che palleggia molto bene, ma questo lo sapevamo. Però un aspetto positivo c'è, nel senso che nei primi 20 minuti potevamo fare anche il secondo, non abbiamo chiuso la partita. E con squadre di questo tipo qua, se non la chiude poi l'episodio può capitare. Devo dire che nell'ultimo quarto d'ora abbiamo avuto tre palle e gol importanti, che se magari facevi una di queste e portavi a casa la partita. Nell'ultimi 20 minuti è passato al 3-5-2 con l'inserimento di Perrotta. È arrivato subito il gol del pareggio, però il 3-5-2 è sembrato essere alla fine il modulo giusto. Sì, la dice lunga su questo, nel senso che secondo me in quel momento della partita era giusto fare in quel modo lì. Loro hanno messo due punti per dare più copertura al centrale, ma soprattutto per allargare di più il gioco e metterli in difficoltà. E così è stato nell'ultimo quarto d'ora, perché loro sono andati in sofferenza, specialmente sui cross da fondo capo con la prestanza fisica di Bellini e Monachella che hanno messo alla fine. Abbiamo avuto tre occasioni, non abbiamo fatto neanche una, però l'importante è averle fatte. Sul gol subito, assestamento del 3-5-2 o qualcos'altro? Può essere, però se sei con il 3-5-2 in quelle situazioni devi evitare, anche sul cross deve essere più densità centrale. Sembrato che del cross fosse un po' da solo. Era da solo, doveva essere un altro lì, però è stato anche sfortunato nel momento, nel senso che questo giro palla, siamo usciti bene nella pressione e niente, abbiamo preso il gol. Peccato. Con una condizione atletica che può crescere ulteriormente, è fiducioso per i play-off, per non avere questi cali? O è solo atteggiamento quando si subisce? No, noi stiamo increscendo, secondo me, come squadra, come mentalità anche. Sapevamo che dovevamo fare una partita anche di sofferenza contro una squadra di questo tipo qua, però vedo una squadra in salute che sta bene, che cresce e sono fiducioso. È chiaro che adesso abbiamo una partita molto difficile a Venezia, dove ha perso in casa, mi sembra, e sarà l'ultima chance anche per loro. A noi andiamo a fare 5 a Salerno? Eh, sembra tutto facile, quando noi andiamo a Carpi magari vogliamo anche dei gol importanti, però sembra tutto facile e poi il Carpi va a Salerno e vince, quanto ha vinto? 4 a 1? 6 a 5. Questa è la dice lunga su questo campionato. L'ultima pillone, non mi faccia brutto, ma devo riferire a quello che ha detto il Presidente, perché ha detto io chiedo più coraggio, certo il Verona è forte, abbiamo fatto una bella partita, però a un certo punto abbiamo messo il pullman davanti alla difesa. Testuali parole. Il Presidente è giusto che dica le sue opinioni, io le rispetto, io cerco di fare il mio lavoro nel miglior modo possibile, è un aspetto che è da tenere in considerazione questo, però bisogna anche vedere la squadra avversaria, che è una buonissima squadra, che palleggia molto bene. Lavoreremo meglio, cercheremo di fare meglio questo aspetto. Proprio l'ultima, quanti punti servono nelle ultime due per chiudere il discorso play-off? Ultime due per il Pescara. Io credo che 54-55 dovremmo essere dentro. Perfetto, grazie. Grazie al tecnico Baby Pillon, ci vediamo a Venezia.